Allora, l'obiettivo di questo pomeriggio è quello, prima di tutto, di vedere assieme la soluzione dell'ultimo laboratorio, in modo da prendere un po' più di familiarità con l'HTML, con gli strumenti che avete visto, e poi iniziare a parlare dell'altra parte della visualizzazione web che riguarda la presentazione. Mentre l'HTML permette di andare a definire i contenuti, la presentazione richiede un altro linguaggio che si chiama CSS. Quindi l'obiettivo di oggi è quello di iniziare a introdurre anche il linguaggio CSS. L'obiettivo è quello di darvi in mano i due strumenti fondamentali per andare a descrivere dei contenuti e rappresentarli in maniera adeguata. Quello che succederà dopo sarà quello di andare a capire come possiamo in maniera dinamica generare questi contenuti e interagire con gli utenti, in particolare utilizzando un altro linguaggio di programmazione che si chiama JavaScript. Mentre HTML e CSS sono sintaticamente abbastanza semplici, non hanno tantissimi elementi, JavaScript è un linguaggio di programmazione completo e quindi decisamente più complicato. e sostanzialmente dedicheremo il resto del corso poi a parlare di JavaScript, di librerie che possiamo utilizzare con JavaScript per andare a generare dei grafici. Torniamo al nostro esercizio. Abbiamo visto che i due strumenti raccomandati erano uno, un editor che è online, che si chiama CodePen, ce ne sono tanti in alternativa. Questo è relativamente facile da utilizzare, fornisce account gratuiti e quindi è raccomodo da utilizzare in questo contesto. Il secondo elemento è un browser che può essere nella versione di base Internet Explorer era raccomandato Firefox perché è quello che è più conforme agli standard. Se voi utilizzate Internet Explorer, in particolare la versione che è installata sui PC del laboratorio non avete un completo supporto degli standard. quindi se voi aprite i file HTML futuri che comprendono CSS e JavaScript con Internet Explorer avete il 2% di probabilità di vedere il risultato corretto. Quindi o utilizzate una versione recente di Internet Explorer e quindi aumentate un po' questa probabilità oppure ottenete una schifezza. Lo dico chiaramente perché poi più avanti passerete un sacco di tempo a scrivere codice e se non lo aprite col browser corretto che quindi supporta gli standard non vedete assolutamente nulla. se in laboratorio potete alzare la mano e chiedere a me o a Diego che siamo lì presenti e quindi in fase d'esame siete per conto vostro. Quindi se non riuscite a visualizzare quello che avete fatto peggio per voi. Quindi ricordatevi che è necessario utilizzare un browser che supporti gli standard recenti. Cosa dobbiamo fare? In questo caso specifico l'idea era di provare a scrivere un curriculum vitae utilizzando HTML. La struttura è quella che abbiamo visto quindi ci sono informazioni personali, esperienze lavorative, distruzione, le varie competenze e eventualmente altri interessi. Come farlo con un editor di testo? In particolare un editor che sia in grado di supportare la sintassi HTML. Quello che vi suggerivo è di partire da questa pagina di partenza come vedete gli elementi che voi potete andare a definire sono sostanzialmente tre la parte di HTML con i contenuti la parte di presentazione CSS e la parte JavaScript. In generale quando andate a programmare vi consiglio di concentrarvi su uno solo di questi quindi fare doppio clic e allargare la finestra e eventualmente ridimensionare le due parti in modo da avere abbastanza spazio in cui vedere il codice e scriverlo e personalmente io preferisco la divisione in verticale ma andando qui voi potete scegliere una divisione in verticale oppure in orizzontale la prima operazione da fare era quella di fare un fork il fork che cosa fa? Sostanzialmente vi prende la pagina di partenza e viene crea una copia tale e quale vi copia anche il titolo che in realtà noi vorremmo andare a cambiare a questo punto che cosa dobbiamo fare? dobbiamo andare a definire i nostri contenuti qui in questa parte interna vi ricordo che l'HTML di solito è composto da due sezioni la sezione head e la sezione body dentro il body andiamo a mettere i contenuti come mettiamo i contenuti? qui sotto c'era un minimo di suggerimenti inizialmente vi suggeriva di utilizzare degli heading di tipo H1, H2 per introdurre le sezioni e scrivere le informazioni in elementi di tipo P allora quali sono le sezioni? le sezioni sono informazioni personali esperienze lavorative istruzione e formazione competenze e altri interessi quindi cosa dobbiamo fare? allora gli indici di scusate i titoli di livello 1 normalmente o introducono la pagina o rappresentano le settimane principali dipende da come vogliamo gestirli immaginiamo utilizzare H1 per andare a dare il titolo principale della pagina quindi curriculum di Mario Rossi dopo il nostro curriculum il titolo principale dobbiamo andare a mettere diverse sezioni quindi io posso andare a mettere section e slash section e ne posso mettere un certo numero come vedete di qua non compare nulla perché la sezione è un'entità HTML che rappresenta semplicemente un contenitore non ha in maniera predefinita una qualche rappresentazione visiva serve per strutturare i contenuti se vogliamo possiamo attribuire alle sezioni una visualizzazione particolare non so un margine un bordo un colore di sfondo quello che vogliamo se non facciamo nulla nella versione base di HTML non corrisponde nessun elemento visuale alle sezioni ogni sezione dovrà essere ragionevolmente introdotta da un indice scusate da un titolo quindi se abbiamo usato H1 per andare a definire il titolo principale del nostro documento qui ragionevolmente andremo a mettere H2 informazioni personali H2 invece è un tag HTML che di solito ha associato una particolare visualizzazione che è un po' più visibile ed enfatizzata del testo normale ma un po' meno dei titoli di livello H1 ricordatevi sempre che la gerarchia di titoli rappresenta una gerarchia di importanza quindi il titolo 1 può essere il titolo del libro il titolo del capitolo quelli di livello 2 potrebbero essere le sezioni quelli di livello 3 le sottosezioni eccetera maggiore è l'importanza maggior risalto dobbiamo dare a questi elementi cosa vuol dire maggior risalto vuol dire che gli elementi dovranno essere più visibili dovranno avere degli attributi visuali più importanti il primo attributo a cui associamo importanza normalmente è la dimensione e quindi il titolo di tipo H1 sono più grandi hanno un fonte più grande rispetto a quelli di H2 di titolo di livello H2 che sono a loro volta più grandi perché sono più importanti di quelli di livello H3 e via di questo passo dopo le nostre informazioni personali abbiamo esperienze lavorative posso anche fare un copia e incolla di questo testo qui quindi abbiamo esperienze lavorative un'altra sezione con l'istruzione e formazione la terza sezione con le competenze e poi altri interessi dove ogni sezione è iniziata da un titolo di livello 2 di livello 2 di livello 2 di livello 2 abbiamo già un po' di testa testo che descrive cosa dovremmo mettere in quelle sezioni il fatto che i titoli qua siano mostrati in arancione con una certa dimensione che i titoli di livello 2 abbiano questa sottolineatura non è la rappresentazione standard HTML ma è dovuta ma è dovuta a un file CSS che è riportato qua ok che io avevo già fornito come punto di partenza per la vostra rappresentazione se io se io rimuovo questo contenuto vedete che cambia tutta la rappresentazione e resta sostanzialmente una rappresentazione bianco e nero con dei titoli leggermente più grandi o più piccoli il CSS di cui parleremo poi in maniera più estesa dopo mi permette di andare a definire una visualizzazione più personalizzata di ciascun tag cosa veniva chiesto inoltre quindi inizialmente veniva chiesto di mettere i titoli H1 e di scrivere le informazioni dentro gli elementi di tipo P quindi questi paragrafi dovrebbero andare a finire dentro degli elementi di tipo P chiusi da slash P P e slash P questo è una prima bozza ovviamente qui ragionavolmente io devo andare a scrivere qualcosa di significativo ma per il momento può andare bene strutturare un po' meglio mettendo un header un footer e vabbè e ovviamente le varie sezioni che io ho già messo prima quindi l'header sta in cima e il footer sta in fondo quindi all'inizio qui dove c'è il nostro body il titolo del curriculum generale starà in un header slash header vede che header in questo stile è associato a questa doppia linea che sta sopra e sotto posso in fondo mettere un footer in cui vado a mettere che so data Torino 6 aprile 2017 e questo footer viene messo in fondo con un fonte più piccolo e separato da questa riga tratteggiata dal resto di nuovo perché lo stile che stiamo utilizzando definisce queste caratteristiche per il footer per andare a elencare le varie esperienze lavorative quello che noi possiamo fare di solito o per l'istruzione è quello di andare a mettere delle liste quindi noi possiamo andare a mettere delle liste non numerate in cui abbiamo dentro dei item ultimo posto di lavoro chiuso da un slash li un altro item in ultimo posto e infine chiudo la mia lista non numerata vi faccio notare avevo già detto la volta scorsa che io posso mettere quanti spazi voglio ma sostanzialmente questi vengono ignorati le parole possono essere separate da uno spazio da 10 o da 100 sostanzialmente è la stessa cosa vengono considerate due parole separate basta che ce ne sia uno se invece mi interessa andare a rappresentare una lista numerata posso utilizzare l'abbiamo visto la volta scorsa come una lista introdotta da OL una cosa che probabilmente avete notato è che se io dimentico di chiudere una lista quindi ad esempio o metto questa riga in realtà finisce la sezione ma la sezione viene evidenziata ok? devo sempre ricordarmi di chiudere i dati i tag tag di apertura e tag di chiusura se io qui sotto vado a mettere dell'altro testo ad esempio dentro un tag qui questo testo vedete che è allineato con i punti precedenti se invece chiudo la mia lista ordinata il testo viene allineato come quello che precedeva la lista numerata un'altra cosa che veniva poi chiesta era quello di fare una tavola di contenuti in cima al nostro curriculum in modo da poter saltare alle varie sezioni qual'è l'idea? l'idea è che ogni sezione dovrà avere un proprio identificativo in modo da poterla identificare univocamente una volta che la sezione o qualunque altro elemento ha un identificatore noi possiamo utilizzare quell'identificatore per saltare a quel frammento della pagina come facciamo a definire un identificatore sostanzialmente dentro il tag di apertura delle sezioni vado a mettere un parametro un attributo che si chiama id e gli do un nome quindi ad esempio il primo lo chiamo info info la seconda sezione la chiamo lavoro la terza la chiamo istruzione la quarta la chiamo competenze e l'ultima la chiamo interessi ora in realtà questa pagina è contenuta praticamente tutta nello schermo quindi per saltare da un punto all'altro e notarlo abbiamo bisogno di una pagina che sia un po' più lunga per cui ad esempio qui posso andare a mettere una lista con pari interessi in modo che la nostra pagina sia un po' più lunga quindi una volta che ho definito il mio identificatore io posso ad esempio all'inizio della mia pagina definire ad esempio un indice un header di livello 3 chiamo contenuti con una lista delle varie sezioni per cui informazioni personali esperienze lavorative istruzione istruzione competenze competenze altri interessi interessi questa è la mia lista questa è la mia lista che è la mia lista che è la mia lista che è la mia lista di tipo a quindi metterò un a all'inizio e un slash a in fondo e dentro e dentro il tag di apertura devo andare a mettere un attributo di tipo href cosa cosa metto dentro quell'attributo se voglio saltare a un frammento della pagina devo utilizzare un url che contiene il nome del frammento il nome del frammento è esattamente l'attributo id di quel frammento che url posso andare a mettere beh se io vado a prendere l'url che trovo lassù in cima posso copiare quest'url e andarlo a mettere qua mettendo un frammento che si chiama ad esempio info ok questo è l'url completo di quel frammento in realtà solitamente che cosa si fa non mettiamo l'url completo perché immaginate cosa succede se io prendessi questa pagina col codice html lo volessi mettere su un altro server sul mio pc o in qualunque altro posto cosa succede? succede che questa parte iniziale che mi identifica il server non è più valida probabilmente neanche il path quindi tutta questa parte fino al simbolo di quindi se volessi copiare questa pagina in un altro server devo andare ad aggiornare tutti quegli url in modo che puntino alla pagina corretta al server corretto in generale è molto meglio utilizzare dei riferimenti che siano relativi quindi invece di mettere tutta questa parte che potenzialmente può cambiare io la cancello a questo punto come fa il browser a capire dove deve andare sostanzialmente lui prende il frammento e aggiunge prima del frammento tutte le informazioni di contesto che ci sono se io non dico in che pagina ragionevolmente sarà la pagina corrente se non dico in che server ragionevolmente sarà il server in cui si trova la pagina corrente quindi tutte le informazioni mancanti fanno riferimento alla pagina corrente all'url della pagina corrente a questo punto se io sposto questa pagina su un altro server in locale o dove vogliamo quel riferimento è automaticamente valido perché il browser andrà a vedere dove si trova la pagina che lo contiene e andrà automaticamente a completarlo con l'url della pagina corrente quindi in generale la raccomandazione è utilizzare sempre degli url relativi questo vi permette di portare i vostri contenuti tranquillamente dove volete senza dover andare a ritoccare ogni singolo dettaglio a questo punto vedete che il testo che abbiamo incluso dentro un elemento di tipo A viene evidenziato e se io mi posiziono sopra abbiamo il cursore che viene automaticamente visualizzato con la mano o comunque con qualunque altra icona che rappresenta i link se io faccio click su quella link automaticamente che l'ho chiamato into invece che info automaticamente salto alla sezione corrispondente un altro elemento che si utilizza abbastanza spesso nelle pagine html sono le tabelle per cui ad esempio se noi volessimo rappresentare le informazioni sul posto di lavoro le potremmo descrivere in maniera più strutturata andando a indicare per ogni posto di lavoro ricoperto la data di inizio la data di fine e una descrizione del nostro posto di lavoro questo lo possiamo fare in una tabella andando a identificare tre colonne per cui in alternativa a questo noi potremmo andare a mettere una tabella una tabella le tabelle devono essere descritte per righe quindi andiamo a mettere una riga all'interno delle righe noi andiamo a mettere delle celle le celle vengono descritte tramite questo tag td quindi l'ultimo posto di lavoro sarà dal 1-1-2016 al presente e la descrizione del posto di lavoro può essere fatto in questo modo altro 1-6-2015 al 31-12-2015 sostanzialmente quello che ottengo è una tabella di questo tipo il fatto che vengano visualizzate con colori alternati le righe che ci sia una barra sopra una barra sotto di nuovo dipende lo stile che abbiamo scelto in generale quando andiamo a definire una tabella è opportuno andare a definire che cosa che cosa sono le varie colonne per cui molto spesso la prima riga che vado a inserire dentro dentro una tabella è una riga che contiene dei titoli di riga i titoli all'interno delle tabelle vengono definiti dentro le celle descritte dai tag TH sta per header table header quindi TH da a a posizione in generale praticamente tutti i browser sono in grado di gestire un codice html che è incompleto per cui se io dimentico di chiudere il TR la mia tabella non cambia se dimentico di chiudere un TH la mia tabella non cambia ok quindi i browser sono in grado di inferire dove mancano dei tag di chiusura e li mettono loro automaticamente in generale riescono a indovinare abbastanza bene ma a volte sbagliano per cui se vogliamo essere sicuri di come viene visualizzato del codice html dobbiamo esplicitamente mettere noi i tag di chiusura abbiamo messo nella nostra tavola dei contenuti abbiamo ad esempio visualizzato una tabella quindi sostanzialmente quello che ha richiesto era una versione leggermente più elaborata del testo che abbiamo messo qua in realtà un punto vi chiedeva di andare a organizzare la vostra struttura non per sezioni ma per tabelle quindi definire una riga della tabella per ogni sezione del vostro curriculum normalmente quello che si fa non è andare a scrivere il codice html direttamente a mano si usano degli editor più di alto livello che vi permettono di andare a scrivere del testo selezionare un frammento metterlo dentro una tabella esattamente come voi andate a scrivere un documento in word quindi non andate a scrivere i singoli tag dentro word ma utilizzate un editor che vi mostra direttamente qual è il risultato tuttavia è bene sapere come è strutturato l'html perché alcuni dettagli con un editor molto spesso non si riescono a ottenere quindi sapere dove andare a ritoccare il codice html per ottenere certi risultati è importante senza contare il fatto che se voi provate a generare una pagina html utilizzando word ad esempio ottenete un file che è 10 se non 100 volte più grande di quello che potreste scrivere a mano perché word inserisce un sacco di dettagli sostanzialmente inutili al fine della visualizzazione perché il codice che viene generato è molto generale deve tenere conto di tantissime possibili variabili quindi quello che scrivete a mano è sicuramente più compatto e per alcuni dettagli è importante gestire il codice html direttamente allora il secondo esercizio in realtà era giusto per farvi capire quanto fosse complicato partire da un file html e ottenere delle immagini effettivamente se voi volete andare a pubblicare i contenuti che avete generato tramite un file excel su una pagina html dovete seguire questa procedura se avete visto le immagini che sono state generate avete anche notato come queste immagini hanno delle caratteristiche diverse alcune sono più dettagliate altre meno quindi è importante andare a scegliere il tipo di immagine corretta pensando a dove verrà visualizzata l'immagine stessa anche la generazione di tabelle è tutt'altro che banale ultimo esercizio quello che riguardava una visualizzazione particolare la visualizzazione era questa questo è un esercizio di analisi molto semplice che di solito corrisponde alla prima parte di un esame normalmente un esame di questo corso parte da un caso di studio quindi una visualizzazione con eventualmente dei dati associati e vi chiede di analizzarli il primo aspetto da analizzare è capire se c'è un obiettivo una domanda chiara a cui risponde il grafico allora innanzitutto non è un grafico solo ma sono tre però sono pensati per essere una visualizzazione unica la domanda è chiara non c'è una domanda esplicita nel testo ma è abbastanza chiaro che l'obiettivo di questa visualizzazione sia quello di andare a vedere come l'Italia si situa in termini di spesa pubblica per l'istruzione rispetto a altre nazioni quindi l'obiettivo direi che è chiaro anche se non c'è una domanda esplicita l'obiettivo che vogliamo raggiungere è definito in maniera chiara i dati sono quelli giusti sono corretti sono validi servono per rispondere alla domanda la risposta in questo caso è no perché se andate a vedere qui in alto ci sono tanti tipi di dati in particolare questi riguardano le spese per la difesa in cui l'Italia non è messa malissimo è a metà ma la difesa non ha niente a che fare con l'istruzione quindi i dati mostrati sono assolutamente sbagliati quindi volendo dobbiamo andare sulla pagina che in realtà è questa scorrere qui tra l'altro capire che quell'elenco di tre voci possa essere fatto scorrere verso il basso non è immediato tutt'altro quindi occorre scorrere verso il basso e andare a prendere education tra l'altro bisogna sapere che in inglese istruzione si dice education l'articolo è su un giornale italiano non è detto che tutti gli italiani conoscono l'inglese quindi anche da un punto di vista interattivo è decisamente una scelta poco azzeccata altro aspetto da valutare quindi la domanda che è chiara perché c'era un titolo abbastanza chiaro e evidente i dati che almeno quelli mostrati non c'entravano nulla dobbiamo andare a selezionare i dati corretti un altro aspetto fondamentale è in parte legato ai dati in parte legato alla visualizzazione allora abbiamo tre visualizzazioni quella più importante quella che occupa più spazio che si trova nella posizione principale quindi in alto a sinistra è quella tree map una grafico di tipo tree map viene utilizzato per andare a rappresentare una relazione parte tutto eventualmente gerarchica il fatto è che i valori che sono riportati qua non c'entrano nulla con una relazione parte tutto i valori che leggiamo qua dentro sono percentuali del prodotto interno lordo che ciascuna nazione dedica al particolare capitolo di spesa l'istruzione adesso la difesa in quella che abbiamo visto prima qual è il tutto che vogliamo rappresentare non è il prodotto interno lordo di tutta l'area europea perché il 4,1% dell'Italia e il 4,1% della Slovacchia in valori assoluti sono molto diversi i valori percentuali saranno uguali ma in generale il tutto che cos'è non è ben definito per cui quel tipo di visualizzazione non c'entra assolutamente nulla col tipo di dato che vogliamo rappresentare è come se per andare a rappresentare che so i voti dati a un esame io andassi a mettere un diagramma a torta dove ogni fetta è grande quanto ciascun voto sì ho rappresentato i dati in qualche modo ma non ha nessun senso esattamente come utilizzare un diagramma di tipo 3Map fatto in questo modo quindi da un punto di vista di rappresentazione visuale utilizzare questo tipo di visualizzazione equivale a scrivere in maniera sgrammaticata questo per quanto riguarda il grafico principale secondo grafico diagramma a bolle abbiamo visto come le bolle siano uno dei peggiori strumenti per andare a confrontare i valori e in effetti vi sfido a trovare delle differenze significative un altro aspetto fondamentale è che quando io voglio fare un confronto normalmente ordino i dati in qualche modo significativo qui i dati sono ordinati in maniera alfabetica per cui mi trovo le bolle più grandi più piccole messe in un ordine assolutamente quasi casuale sì è facile andare a trovare dove è l'Italia perché è dopo l'Irlanda però andare a capire come è messa l'Italia rispetto agli altri guardando semplicemente queste bolle è mission impossible quindi questo tipo di rappresentazione qua è assolutamente inutile non mi dà nessuna informazione equivale grosso modo alle cornicette che facevate ad elementari in fondo alla pagina ok né più né meno terzo diagramma che compare in questa pagina o in questa visualizzazione è questo diagramma a barre anche questo è scorribile ma questo se uno non ci va sopra e non prova a scorrere non lo può sapere quindi da un punto di vista di interazione pessimo la visualizzazione di per sé invece funziona è un diagramma barre abbiamo visto che le barre sono facili da confrontare non sono più ordinati in ordine alfabetico che è assolutamente inutile sono ordinati dal più grande al più piccolo abbiamo qui sotto una scala che ci dice ci dà le percentuali non è facilissima da leggere se ci fosse una griglia un po' più visibile potrebbe essere più facile però comunque abbiamo un'idea e possiamo scorrere in giù andando a vedere dove sta l'Italia l'Italia è evidenziata quindi abbiamo modo di capire qual è il valore dell'Italia andando sopra col cursore vedo anche il valore puntuale il problema è che se io vedo soltanto un pezzo del grafico e non tutto ho difficoltà a capire dove è posizionata l'Italia perché allora scusate se vedo così allora l'Italia è comunque terza ultima ok siamo in fondo però se scorro un pochettino l'Italia così diventa ultima oppure non c'è completamente e quindi in generale quando dovete mostrare dei dati mostrateli tutti altrimenti state nascondendo l'informazione e eliminate qualcosa dal contesto il contesto è fondamentale per poter fare dei confronti quindi dati questi dati scusate il visticcio di parole su tre visualizzazioni una è parzialmente accettabile questa assolutamente no quest'altra è pure concettualmente sbagliata questa è solo visualmente sbagliata questa è concettualmente sbagliata tra l'altro qui dentro trovate anche la media europea se è un parte tutto e il tutto è la media europea o l'Europa non potete aggiungere la media stessa non ha imbili niente senso quindi a partire da quei dati tre possibili redesign che potrebbero essere valutati zero mezzo punto e questo qua potrebbe essere qualche punto in più il problema è che è troncato e quindi ne vedo soltanto un pezzo e quello è un limite pesante quindi sostanzialmente utilizzando gli altri aspetti abbiamo visto la domanda abbiamo visto i dati abbiamo visto l'aspetto visuale sostanzialmente quello di proporzionalità l'utilità allora è difficile andare a valutare l'utilità su un diagramma completamente sbagliato che è aspettate che non mi trovo più che è questo l'unica osservazione che posso fare qua è che normalmente mettere tante cifre dopo la virgola non costa nulla per cui abbondiamo se però andate a vedere i dati normalmente dopo il primo decimale sono tutti zero quindi sto dando i numeri letteralmente gli zeri in generale la regola da seguire sempre è non sovraccaricare chi guarda il grafico di informazioni non utili perché queste informazioni comportano fatica e tempo in più di elaborazione questo vale per i grafici ma vale anche soprattutto per le tabelle in cui noi per forza riportiamo degli elementi testuali e vale per qualunque vostro testo che scriviate qual è la precisione significativa per un numero che voi fornite è inutile che mettiate 5 o 6 cifre se poi in realtà dopo la prima è tutto rumore complicate il lavoro a chi deve leggere quel numero e state dando dei dati che non sono in nessun modo significativi quindi qui in termini di utilità quelle due cifre le ultime due cifre dopo il punto sono assolutamente inutili per quanto riguarda le bolle e il diagramma a barre tutti gli elementi forniti sono utili quindi dobbiamo mettere le etichette dobbiamo mettere la rappresentazione le bolle sono una scelta pessima però c'è la bolla c'è l'etichetta quindi in termini di utilità c'è tutto quello che serve per le barre idem in termini di chiarezza allora sia per quanto riguarda il diagramma trimap che poi qua sotto il diagramma a barre l'Italia è evidenziata quindi è chiaro dove si pone l'elemento che vogliamo confrontare con gli altri quindi quella differenza lì permette di identificare chiaramente la nazione italiana che è quella che vogliamo confrontare con le altre questo però non c'è nel diagramma bolle quindi è decisamente meno chiaro devo andare a scorrere la lista capendo che in ordine alfabetico per trovare l'Italia il valore puntuale è facile da leggere qua qui devo andare sopra per visualizzarlo e qui pure perché sul diagramma bolle non ho nessun asse di riferimento sul diagramma barre ho questo asse qui sotto che però è difficile da leggere soprattutto il riferimento alla barra che sta più in alto quindi la presenza di una griglia avrebbe aiutato quindi non è molto chiaro sicuramente il fatto che mettendomi sopra con il cursore riesca a vedere il risultato puntuale questo è decisamente utile anche qui ho quegli zeri finali che non costavano molto e quindi sono stati messi normalmente in un esame a partire da questo cosa dovreste fare dovreste andare a scrivere del codice che permetta di visualizzare nella maniera corretta i dati il contesto che cos'è è una pagina html quindi dovete essere in grado di definire gli elementi fondamentali di una pagina html per strutturare un po' i contenuti i dati normalmente vengono caricati da un file esterno e parleremo dei vari formati con cui possiamo imbolizzare i dati l'aspetto visuale invece viene descritto tramite scusatemi sono andato avanti il linguaggio CSS di cui possiamo parlare dopo una breve pausa grazie grazie